grazie bob questa festa è stata molto divertente concludiamo la giornata con una bella canzone vi va? che ne dite di una canzone sugli aggettivi? sì 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 niente banale se ci guardi bene nomi gli aggettivi lavorano insieme descrivi meglio il mondo con degli aggettivi conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi oh tu guardati cos'è che abbiamo un palloncino che svolazza piano si può dir che è rosso e tondo e sta mezz'aria sopra il mondo quindi rosso e tondo descrivono il palloncino sono aggettivi certamente guarda che bel dolce abbiamo qui a finirlo non ci vuole niente è buono cioccoloso delizioso sì ma mangiarne troppo non è conveniente buono cioccoloso delizioso l'acqua è una cosa importante per noi tutti animali e piante è blu luccicante cristallina nel lago nel mare nella piscina wow perché niente è banale se ci guardi bene nomi e aggettivi lavorano insieme descrivi meglio il mondo con degli aggettivi conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi ma tu guarda il cane del vicino poco fa faceva un sonnellino ma ora è attivo ed energico sembra proprio un tipo atletico si può dire anche marrone e peloso ma certo gli aggettivi sono divertenti nella frase possono esser tanti buono bravo divertente gentile coraggioso intelligente che ne dici tu di questo quadro sembra scuro oppure luminoso o diresti che è colorato o semplicemente meraviglioso di quest'albero cosa direste che di foglie gialle ora si veste io direi che è grande e alto anche più grande della casa accanto wow bob gli aggettivi sono divertentissimi perché niente è banale se ci guardi bene nomi e aggettivi lavorano insieme descrivi meglio il mondo con degli aggettivi conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi è stata meravigliosa questa festa bimbi non avrei potuto spendere meglio il mio tempo wow bob gli aggettivi sono divertentissimi e grazie a voi bimbi per averci seguiti mi raccomando tornate con noi la prossima lezione che sarà così piena di cose divertenti ciao ciao